Allora, vi ringrazio intanto per l'ascolto. Ho scelto di titolare al mio intervento Pesca le carte vincenti e scegli il software libero. Perché ho pensato al mazzo di carte? Ho pensato al mazzo di carte perché in effetti, a voler scorgere, c'è una carta, cioè abbiamo un jolly all'interno della nostra manica, quasi per tutti gli ambiti di riferimento che ci richiedono di utilizzare il computer o un dispositivo mobile. Faccio questa premessa perché la mia intenzione, con i colleghi docenti di ogni ordine e grado e non solo, è poi di diffondere questo intervento e fare sì che a disposizione di tutti vi sia anche questa carrellata di risorse. Ragion per cui comincio da un primo riferimento normativo caro, ad esempio, e colgo l'occasione per salutarla, alla nostra amica ed esperta in ambito di open la professoressa Flavia Marzano, ex, mi vuole dire, assessore a Roma digitale. Ex perché, ahimè, non è più nel suo incarico. Ebbene, è giusto sapere a proposito di quello che diceva Giordano che software libero, cioè la libertà di utilizzare un programma gratuito consapevolmente scelto, è prevista dalla legge. Noi abbiamo un bel pezzo di carta al cui nome codice dell'amministrazione digitale, che all'articolo 68 parla di analisi comparativa delle soluzioni. In parole poverissime, codice dell'amministrazione digitale, per gli amanti diciamo del legalese, è il decreto legislativo 82 del 2005. Ebbene, facendola molto breve, chiunque opera nella pubblica amministrazione, nel momento in cui fa una cosa, dovrebbe domandarsi perché e cosa deve fare. Quindi, se io devo scrivere un documento di testo, se devo redigere una lettera, la mia analisi comparativa è, posso utilizzare un software proprietario? Sì, come si chiama Microsoft Word. Posso sostenere il costo di una licenza d'uso? Sì, lo acquisto. Di contro però, il codice dell'amministrazione digitale dice, occhio, se c'è un'alternativa analoga di pari qualità, perché guardate che software libero o open source non vuol dire, ma sì, gratuito, fatto da amatori. Noi che conosciamo da dentro anche The Documents Foundation, vi possiamo confermare, Giordano ne converrà con me, che c'è un board, cioè ci sono membri di un direttivo, semplifico, che funzionano, prendetemi con le debite proporzioni, come potrebbe funzionare un organismo di caratura internazionale ancora più grande. Penso alla FAO, per dirvi a organizzazioni che si occupano di altri temi, ecco. Però il fatto di che ci siano ordine e una disciplina anche mentale, educativa ed educante, ci dicono che qui parliamo di qualcosa di serio, non è informatica. E allora se io posso, vedi LibreOffice, utilizzare un insieme di programmi di qualità, costantemente aggiornati, tra i quali vi è un programma che mi consente di scrivere la mia lettera e si chiama LibreOffice Writer, ebbene, secondo il codice dell'amministrazione digitale, io lo debbo preferire. Nella scuola, e questa è una battaglia che io conduco da tempo, non solo in Liguria, ma anche in Italia, diciamocelo che, per motivi di trasmissione del nostro esempio educativo e per altre ragioni, LibreOffice è una scelta consapevole da installare nelle aule, da installare nei laboratori, perché, e ne parlerò, mi dà una ampia gamma di opportunità per i ragazzi e per noi docenti. E infatti, ne parlo immediatamente. Scorro e voi vedrete la carrellata per cui in ogni diapositiva troverete il sito di riferimento e il che cosa faccio. LibreOffice si scarica da it.libreoffice.org. Eh sì, ma magari funziona meno bene di Microsoft Office. Errore. Eh ma non riesco ad aprire la lettera che ho scritto con Microsoft Word. Eh, errore. Perché se io con Microsoft Word, per motivi di mia mancata consapevolezza, salvo scegliendo come formato finale. Sapete quel click file salva con nome che inconsapevolmente si fa? Ecco, quando salvo c'è una X in fondo, quella X è una sorta di blocco di fabbrica che limita, ahimè, la circolazione, la diffusione e la rielaborazione corretta di quella lettera. LibreOffice salva i miei documenti in un formato standard a livello europeo. E questo è un tema molto caro all'amico Italo Vignoli, presidente onorario di Libre Italia ed esperto a livello mondiale in ambito open source, che ho avuto il piacere e l'onore di portare in Liguria a parlare con i ragazzi per cui si può fare, cioè si può far cultura digitale. Giordano questo lo sa bene, perché in Liguria da tutte le regioni d'Italia sono venuti amici e colleghi a parlare di software libero. Quindi, alla luce di questo vi dicevo, LibreOffice usa un formato standard che è il formato ODF, open document format. La mia lettera è esattamente la lettera di sempre, ma invece che terminare con docx termina con ODT, open document text. Writer la videoscrittura, calca il foglio elettronico di calcolo, quindi Writer sta per Word, calca analogo a Excel, draw analogo a publisher, impress analogo a powerpoint, base analogo ad access e math, scrittura matematica analogo a equation editor. Quindi, oltre a poterlo lecitamente scaricare, è inclusivo perché io non posso dire ad un alunno, sì sì, fammi un powerpoint, perché io se utilizzo queste parole, in realtà, utilizzando queste parole, cosa accade? Rischio, utilizzando queste parole, di trasferire anche il concetto del bene, do per scontato, che tu possa acquistare, diciamo, questo software. E non è affatto scontato, cioè è un tema che io non posso dare affatto per scontato. Alla luce di questo, ecco perché LibreOffice diviene, per noi, realmente inclusivo. Alla luce di questo, andiamo un pochettino a vedere anche ulteriori risorse. Parliamo ad esempio di cloud. Il cloud, che ora va anche un pochino di moda, che cos'è? Il cloud è quel posto all'interno del quale io salvo e parcheggio in sicurezza dei miei dati. Faccio magari silenziare un secondo il microfono all'amico Giordano, ci scrivono, per poter avere un ottimale audio e questo mi dà l'occasione di rispondere ad una domanda e a domande che sto leggendo. Sono d'accordo sul fatto che estremismo e integralismo non vadano mai bene? Certo che sì, certo che sì. Leggo anche un commento che mi fa piacere riportare, LibreOffice è al momento superiore in molte funzioni alla suite Microsoft. Attenzione, non lo discuto, io per primo ne sono utilizzatore, ma come Giordano ha voluto segnalare, se noi nelle scuole portiamo questi esempi di cultura digitale, non mettiamola sul piano del super oro o inferiore, però darei una chiave di lettura diversa. Usiamoli comparandoli, dimostriamo nei fatti che le stesse cose che posso fare con l'uno le posso fare con l'altro, dimostriamo anche che un LibreOffice è veramente inclusivo perché tutti gratuitamente di qualità se lo possono permettere e che a scuola come a casa mi permette di lavorare avendo un documento che circola e durerà nel tempo. Quindi non è un discorso, guardate non stiamo ad elencare a ditare i buoni e i cattivi, il tema è questo, alla stessa maniera il tema della privacy, ne abbiamo parlato prima, cioè ovviamente nelle scelte consapevoli che noi andiamo a fare, sempre a mio modesto parere, secondo la logica a cui facevo riferimento prima dell'equalecito compromesso, ad esempio, se io intendo ottenere un cloud, cioè un contenitore più sicuro magari del classico e francamente anche valido Google Drive, che però è di Google, dunque facente capo a multinazionale del software, io posso utilizzare pCloud, sito di riferimento, pCloud.com, si scarica anche da Play Store e App Store. Multipiattaforma significa che lo utilizzo dove voglio, che nel piano gratuito mi offre 10 gigabyte di spazio per l'archiviazione, che vi assicuro sono una bella quantità, ma il punto di forza di PCloud, che ha anche un piano a pagamento per essere utilizzato, è quello di avere un ottimo certificato di sicurezza per la gestione dei file, in parole estremamente povere, addirittura portando la sicurezza all'ennesima potenza e richiedendo a pagamento un piano denominato Cripto, io praticamente, io utente, io Andrea, io Giordano, diveniamo noi i veri e quasi unici possessori dei nostri files, mentre sappiamo, però l'importante è esserne consapevoli, che naturalmente nel momento in cui io parcheggio contenuti all'interno di una risorsa Google, approfitto delle comodità che Google stesso mi offre, però di contro sto cedendo, diciamo, una parte dei miei dati, se così vogliamo dire, ecco, non è nulla di, attenzione, nulla che stiamo demonizzando, nulla di illecito, però sono informazioni consapevoli che vanno fornite. In questi tempi di didattica a distanza, e ve lo posso testimoniare non perché l'ho letto, ma perché quasi H24, da mesi mi dedico a questo punto, ecco, c'è stato anche il rischio della cattiva informazione, della velocità e a volte del procedere in ordine sparso che ha ingenerato un pochettino di confusione. Ci sono anche risorse facenti campo a Google e a Microsoft, ho usato anche, però nella nostra panoramica culturale digitale dobbiamo sapere anche che vi sono altre risorse e cosa facciano. Quindi Pcloud per l'archiviazione sicura. E per la posta elettronica? Posso utilizzare Microsoft Outlook? Sì, è una risorsa proprietaria, ne possiedo regolare licenza d'uso, eventualmente me ne servo. Ho una risorsa analoga di qualità che faccia lo stesso? Sì, Mozilla Thunderbird. Un software, quindi un programma che si installa, che oltre ad avere le medesime funzionalità a cui magari siamo abituati, penso alle segreterie scolastiche, penso al docente. Che necessità io posso avere? Mandare un allegato in maniera sicura? Sì. Ricercare tra i messaggi? Sì. Avere più account, più indirizzi di posta? Ebbene, tutto questo Thunderbird lo fa. Inoltre, avendo funzioni, quale è il blocco dei contenuti remoti che ad esempio, come alcuni fornitori di posta elettronica online magari fanno, ci, questa funzione dunque, ci consente di avere un primo filtraggio in qualche maniera su quelle mail massive che talvolta ci arrivano. Apro e chiudo una parentesi per dire che talvolta è il nostro utilizzo che genera il pericolo, la potenziale difficoltà, la potenziale incognita. Cioè, stiamo attenti a questo. Alla stessa maniera si parlava di email e parlando di email, ci scrivono, lo dico all'amico al Borghetti, di silenziare il microfono per tastiera. Io sono ambasciatore, l'ambasciatore non porta pena, ma l'ambasciatore è un diplomatico. Allora indosso la divisa nel corpo diplomatico e parlando di posta elettronica, faccio ad esempio riferimento a Proton Mail. Proton Mail, vedete che la parola mail di certo non manca, è una risorsa per la gestione della posta elettronica con un meccanismo di criptografia particolarmente sicuro. Cioè, se io utilizzo Proton Mail e mi registro gratuitamente, dunque registro un indirizzo di posta elettronica chiocciolaprotonmail.com, ho a disposizione intanto un servizio che posso utilizzare per scrittura e dove voglio, ma soprattutto sto utilizzando un prodotto che ha i server localizzati in Svizzera con tutto ciò che legalmente ne consegue e non c'è attività di tracciamento sulle email dell'utente. Ecco, questo è abbastanza evidente, io lo dichiaro, utilizzo anche Gmail e anche la Google Suite come molti professionisti della formazione e dell'educazione perché questi sono gli insegnanti, però vado anche a dire che naturalmente non posso pensare in maniera ingenua che lo scambio di email che avviene all'interno di Gmail sia uno scambio totalmente anonimo. Devo sapere dunque che per comunicazioni riservate o alle quali io tenga, ecco, ci sono francamente fornitori di posta elettronica che nella loro ordinaria gestione non mi garantiscono ad esempio i criteri di sicurezza che ProtonMail mi offre. ProtonMail nel piano gratuito ci offre 500 megabyte di posta elettronica, quindi per poter ospitare la nostra posta elettronica, vi assicuro che è una buona quantità. Andrea, scusa, tu hai detto che chi ha inventato ProtonMail? No, ti prego di completare. ProtonMail è stato inventato alla CERN di Ginevra, per cui alla base di ProtonMail c'è una grossissima realtà scientifica molto importante e soprattutto, come dicevi prima tu, i server in Svizzera ovviamente ti danno una sicurezza maggiore e come si diceva da tempo, la sovranità digitale è fondamentale pensando che dovrebbe essere a livello europeo, non solo italiano. Mi taccio e spengo il microfono. No, no, hai detto bene, io aggiungo a sovranità digitale, ottimo tema, la neutralità. Signori, ma lo dico anche ai ragazzi, la neutralità della rete è un tema chiave. Internet non è né buono né cattivo. Questo lo ripeto da anni nei seminari, nei corsi, parlando di cyberbullismo, e lo dico volutamente così perché è un'unione di due termini, inglese e italiano. Ecco, è l'uso che noi facciamo delle risorse digitali che le va a connotare. Non possiamo pensare che nasca la risorsa totalmente buona, totalmente cattiva. La consapevolezza è importante. Vedi un ProtonMail e ora ci auguriamo con Giordano che vi rimanga ad esempio la curiosità che vogliate magari per poter provare questa risorsa registrare un account gratuito senza alcun pericolo. Per navigare su internet il cosiddetto browser programma di navigazione, oltre al noto Google Chrome, ad un browser sviluppato da sistema operativo proprietario quale Microsoft Edge, abbiamo un caposaldo che è Mozilla Firefox. Browser completo, costantemente aggiornato, multipiattaforma. Vi ho fotografato una sola tra le funzioni comode e pratiche che Mozilla Firefox integra al suo interno. Ad esempio la possibilità di catturare una schermata di navigazione senza utilizzare un programma esterno. In più posso installare cosiddetti componenti aggiuntivi che mi consentono di migliorare o avere alcune comodità in più all'interno della mia navigazione, così come, lo aggiungo subito, Mozilla Firefox gode di cosiddetto sistema di protezione antitracciamento. Parole molto povere, perché non parleremo informatichese, ma cerchiamo di arrivare dritti al punto. Mi piace questa cosa qua. Mi piace, immagina l'ho fatto per bene. Informatichese. Non parliamo informatichese né legalese, però diciamoci che se io utilizzo una risorsa comoda come Amazon, cito il nome di un colosso che sia noto al grande pubblico, faccio un acquisto e dunque acquisto una stampante ed Amazon di ritorno con una operazione che si chiama retargeting mi dice che avendo comprato magari anche la cartuccia nera potrei aver bisogno del colore, questa è anche una comodità, lato cliente, ma è una operazione di profilazione che consente naturalmente a fornitore di servizi Amazon di conoscere le mie abitudini di consumo. Tutte le volte che navigo in rete lascio dei semini, però o vuoi sempre far come pollicino, voglio dire, cioè o me ne frego, ma quel punto è la mia consapevolezza digitale che mi induce a rischiare dei pericoli in più, la mia scarsa consapevolezza digitale, oppure quando navigo decido di utilizzare Mozilla Firefox, oppure ancora, se sono particolarmente amante della riservatezza, valuto l'adozione e l'utilizzo di Tor. Poi, per un attimo, scusami, per un attimo su Firefox, perché a proposito appunto dell'antitracciamento, quando vi ho fatto vedere nei ultimi slide, il simbolo del fantasmino che è Ghostery, Ghostery è proprio un componente aggiuntivo che voi potete mettere in Firefox proprio per quello del discorso che faceva Andrea. Cioè, se io non voglio essere tracciato o vedere chi mi traccia, uso questo programmino che si chiama proprio Ghostery. L'ultima cosa, poi scusa se mi permetto, lascio la parola ovviamente a te, Firefox nasce sulle ceneri di Nescape, quelli vecchi come noi, io più di te ovviamente, e possiamo solamente dire che Nescape è stato il primo browser in assoluto della storia della navigazione, poi fece l'errore di sottovalutare l'avanzata del browser di Microsoft che aveva inserito in suo computer e alla fine diede il software sorgente, questo per farvi capire com'è importante averlo, a Mozilla che creò appunto Firefox. Inizialmente si chiamava Firebird, poi dovete cambiare il nome perché l'aveva già un'altra azienda, per quello che c'era Firebird e Thunderbird, e divenne poi Mozilla Firefox. Mi fermo. Quanto ci piacciono questi aneddoti? Sono serio? Questa è la famosa domanda, questa piccola storia che ha ripercorso Giordano, ci lascia intendere che, allora dici, ma questo è pane da informatici, ma chi lo ha detto questo? E allora la seconda guerra mondiale è pane da storici, se applichiamo lo stesso principio. Invece il senso della cultura generale passa anche da qui. Dicevo e scorro rapidamente che noi abbiamo a disposizione TOR, TOR. Ecco, TOR è, attenzione, voglio pesare bene le parole come sono solito fare, un browser che ci consente di navigare in ampia sicurezza ed anche con un maggiore livello di sicurezza trattino anonimato che non vuole assolutamente dire che si possa o si debba delinquere, tutt'altro, però vuol dire che basandosi TOR su un sistema di nodi, tale per cui quando io mi collego a TOR in realtà non sono immediatamente riconducibile a una certa azione. Ebbene, questo può essere interessante perché se io consulto il mio home banking, la mia banca, o accedo alla posta elettronica, o a servizi e pagine dove debbo inserire i miei dati, ecco che in questo caso, navigando mediante TOR, ho innalzato, scegliendo semplicemente un programma piuttosto che un altro, il mio livello di sicurezza. Vi è all'interno di TOR, ed eccoci qui, un motore di ricerca che tiene particolarmente all'anonimato e alla riservatezza. Una bella icona a forma di paperina, DuckDuckGo. Allora, non solo Google. Google per i giovani è sinonimo di internet, ma io su questo picchio molto, perché un conto è Google, motore di ricerca, un conto è Google Chrome, nome e cognome, che è un browser. Poi, vi sono motori di ricerca alternativi? Sì. Quali? DuckDuckGo, Quwant, che è un motore di ricerca francese, e così appunto org. Allora, DuckDuckGo, facilissimo, mi vengono in mente per esempio le colleghe della scuola dell'infanzia o della primaria, chi effettua una ricerca con DuckDuckGo opportunamente utilizzato, ha anche meno probabilità di avere risultati indesiderati. Quwant, ci può piacere per un discorso di impostazione grafica, analogo criterio di riservatezza, Ecosia aggiunge al fattore tecnologico il fattore di sostenibilità ambientale, perché, lo dico proprio in pillole, navigando con Ecosia, tutto sommato posso contribuire a piantare un albero. Perché, chi ha sviluppato Ecosia, dichiara di donare l'80%, dice appunto nel suo testo, dei proventi ricavati dalla pubblicità online per la riforestazione. Colgo l'occasione anche, e lo faccio qui per fare un uso in questo momento privato del mezzo pubblico, per fare gli auguri di compleanno, già che si parlava di scuola, ad un'amica e docente, il cui nome è Federica M., Ligure, e la cito in questo frangente perché, come me, sposa all'interno della scuola e della didattica, e non voglio fare torta a nessun altro amico o collega, ma siamo tanti, e cominciamo a dire da subito ai bambini e ai ragazzi che esistono queste risorse, che una piattaforma non è uguale all'altra, ma vediamo insieme cosa faccia. Cioè questo non è fatica, non è lavoro in più, è dare loro un esempio, è dare loro un seme da coltivare. In più arriviamo dai motori di ricerca, che ci offrono ed innalzano il nostro grado di sicurezza nelle ricerche, a quello che io considero veramente una risorsa eccellente, Telegram. Questo aeroplanino di carta, contraddistingue Telegram, e Telegram è un'applicazione di messaggistica, cioè per comunicare, anche. Telegram è un cloud, cioè un posto dove posso mettere le cose in maniera sicura, anche. Telegram può essere uno strumento di informazione per la pubblica sicurezza, per la scuola o per il marketing, anche. Telegram, se fosse nato, ancora prima di WhatsApp, parliamoci chiaro, ed avesse la liquidità che WhatsApp può vantare, perché WhatsApp, ricordiamoci, che è di proprietà del signor Facebook, le famose quattro sorelle, Facebook, Messenger, WhatsApp e Instagram, ebbene, se Telegram, alla sicurezza, diciamo, e alla sua genesi, avesse poi aggiunto anche il danaro, WhatsApp francamente non esisterebbe. Teniamo presente che Telegram è di proprietà di un miliardario russo, per cui per adesso alcune risorse ce le ha, ma non ovviamente quelle di Zuckerberg. Certo, diciamo che ecco, l'inserimento di Giordano è estremamente pertinente, non è francescano, voglio dire Telegram, ecco non nasce su base di francescane, però in questo caso potremmo quasi definirlo un mecenate, no? Cioè duro. Ma tu sai perché, come ha fatto a costruire Telegram? Lo ricordo perché? Guardate che c'è l'anedoto. Vai, vai, prego caro. Perché lui era proprietario, adesso non mi ricordo, del corrispettivo di Facebook per i russi, era proprietario, poi il governo russo gli intimò di dare l'elenco di tutti quelli che, e diciamo così, le persone che si erano iscritte a questo social, lui rifiutò, quando capì che l'area era abbastanza ammessa male per lui, vendette questo programma, e con i soldi guadagnati, evidentemente tanti, poté, puoi costruire Telegram. Ti lascio con un'ultima cosa, non è un anedoto, ma non ci potrà essere con noi Ennio Gemmo, ma anche se all'ultimo momento, e lo ringraziamo per quello, sarà presente con noi Gabriele Ponzo, che è il vicepresidente di Libro Italia. Membro di Document Foundation. Assolutamente. Gabriele, come me Giordano, lo salutiamo e ringraziamo. Allora, cittadini, ma anche docenti, su Telegram ci sono i canali, fonti di informazione unidirezionale, dove non abbiamo il fastidio classico del gruppo, dove tutti a volte si arrogano una libertà di parola, che francamente non è necessaria, e dunque su Telegram io trovo informazioni del Ministero della Salute, il presidente Francesco Di Costanzo, che ci sta seguendo, e si occupa professionalmente di comunicazione, potrà confermare che vi sono moltissimi comuni che affidano la loro comunicazione a Telegram. Penso al nostro territorio, penso al territorio nazionale, mi viene in mente il comune di Cagliari, che nomino non per far torto ad altri comuni, ma perché, come il comune di Bologna, fa una comunicazione piuttosto capillare su Telegram. Il Ministero dell'Istruzione ha un canale molto seguito, era Miur, ora Mi, molto seguito su Telegram, cioè vale la pena, francamente, utilizzarlo su PC, via web, tramite sito, o via applicazione mobile. Oltretutto su Telegram, possiamo anche dire che a differenza di WhatsApp, dove comunque sei obbligato a tenere sempre attivo il telefono, perché anche se usi la versione web, se non hai acceso il telefono, non puoi utilizzarlo, il bello di Telegram è che lavorando in sincrono, tu puoi tranquillamente spegnere il telefono e lo puoi utilizzare, sia come sul PC, sia sul tuo tablet. Questo può essere utile, perché mi è capitato un giorno di aver dimenticato il telefono a casa e nonostante avevo dimenticato il telefono, le persone che ovviamente erano attive su Telegram, li ho potuto comunque contattare direttamente dalla versione PC. Chiedeva a Gabriele quando vogliamo che si inserisca, gli fai un cenno. Col capo o un cenno con la mano? Non lo so, vedi tu. Allora, dopo sceglierò l'arto da usare. Beh, vedi un po' tu. Scherzi a parte, poi naturalmente tra me e Giordano diamo la parola anche istituzionale a Gabriele Ponzo. Allora, se parliamo di sicurezza, vi lascio un altro stimolo, un'altra suggestione. Questo, attenzione, è un dibattito pubblico, non è un corso di formazione. Per cui lasciamo a voi in questo momento poi il coltivare il seme che noi andiamo a gettare, che io vado a gettare. Per la messaggistica in forma privata con buon grado di sicurezza, allora parliamo anche di Signal. Un'applicazione così balzata agli onori della cronaca, perché portata avanti ed utilizzata dal signor Edward Snowden, che è questo giovane che vedete qui in figura, ha scritto anche un libro, insomma, ampiamente venduto. Snowden, lo chiamiamo, ora lo dico impropriamente, una gola profonda, cioè un ex agente CIA con competenze informatiche e così via, che in qualche misura ha svelato quelli che sono alcuni meccanismi ed alcune dinamiche che poi si celano dietro all'uso della rete, dietro all'uso anche di quell'internet più profondo e più nascosto che viene chiamato Deep Web. Con Signal, banalmente, io ho funzioni che non trovo né in WhatsApp, né magari in Telegram, quale l'invio di un messaggio con la funzione media, cioè io invio un'immagine che può essere visualizzata una sola volta, perché io utente decido così. Signale per tutti, eh? Si scarica gratuitamente, provatelo, così come vi suggerisco anche f-droid. Attenzione, f-droid.org non si trova sul Play Store. Io scarico questo piccolo file, lo porto sul mio telefono tablet e in forma di icona, il robottino con verde e blu, io ho dentro f-droid un catalogo, se così lo vogliamo chiamare, dove trovo, è molto interessante, ed è il guardare all'interno delle cose tipiche dell'open source, trovo applicazioni e risorse che magari non conosco e sono libero di provare perché non contengono virus, non generano pericolo, in vari ambiti. Infatti viene definito un Play Store alternativo e legale, perché la legalità digitale è importante. Alla stessa maniera, citiamo in questo caso, altrimenti poi si offende, eccetera, scherzo naturalmente, l'amico Albano Battistella che si occupa di una pagina di divulgazione didattica su Facebook con ottimo seguito, Zorin OS, Education Italia. Ho citato Albano, non per qualche motivo, in realtà, ma perché ben conosce, avendo contribuito allo sviluppo, l'applicazione Jami, Jami.net. Questa applicazione multipiattaforma, per farvi capire, perché anche i paragoni vanno fatti, con le debite cautele del caso, Jami, trattino, Skype, ma in chiave, open source, dunque, con un grado di sicurezza più elevato, con una ottima qualità video, e una tecnologia che non richiede server per trasmettere dati fra gli utenti. Per cui, in teoria, ho una infrastruttura molto leggera e quando Mario parla con Luca, per fare due esempi concreti, di fatto, se non c'è una tecnologia server che va a costituire un inframezzo, la comunicazione è maggiormente diretta. Anche Telegram da sempre utilizza la famosa crittografia end to end, cioè, da me a te, che significa, semplifico all'ennesima potenza, che quando io mando un messaggio non c'è nessuno nel mezzo seduto su una panchina che lo legge prima di recapitarlo. Segnala Giordano questa, perché non so se mi riviene poi un esempio, una metafora per il segno da sotto a qui, una metafora per spiegare la crittografia. la pelle sulla schiena, guarda, questa metafora qua. Siccome guardate, ancora l'altro giorno mi è stato proprio chiesto, ma questo end to end che vedo scritto su WhatsApp, ma che cos'è? Perché end to end non rende l'idea, però, concettualmente, tutti vorremmo anche nella nostra vita un end to end, perché tutti vogliamo che le comunicazioni che rivolgiamo a un interlocutore non abbiano un tramite per forza. Marcello precisa che Giammi, per correttezza, è l'ex Ring. il primo nome di Giammi è Ring. Marcello Masotto del Free Circle di Palermo, un grandissimo amico. Lo nominiamo e lo salutiamo. Oltre che un amico condivide con noi questa visione aperta e di divulgazione. Free Circle Palermo, vi invito a seguirlo. Non è pubblicità progresso, non ci mettiamo in tasca nulla. Non lo voglio subito chiarire. Però diffondere luoghi sicuri a cui attingere per avere informazioni o far nascere curiosità francamente è in capo al nostro dovere anche istituzionale. Quindi noi lo facciamo e salutiamo Marcello e Free Circle. Oltre a Giammi che avete appena sentito nominare, uno dei salvatori della didattica distanza, la cosiddetta DIAB, è stato ed in parte ancora è Jitsi Meet. Vi ho messo nelle diapositive che state scorrendo laddove io ci abbia lavorato anche il link dei videocorsi didattici che ho preparato in questo periodo per favorire i colleghi a chi si sente magari meno digitale. Ebbene, Jitsi ora all'interno di un sito di riferimento che è stato anche diffuso sull'emittente nazionale quindi su Rai1 io-resto-a-casa.work Jitsi è un sistema ed una soluzione che ci permette di creare delle sessioni di comunicazione online in audio, in video con la condivisione dello schermo senza profilazione ma ho una stanza quindi un luogo raggiungibile mediante link o mediante codice all'interno del quale posso colloquiare. Jitsi Meet è anche utilizzato all'interno dell'ambiente di apprendimento WeSchool ma poiché i server di Jitsi soprattutto all'inizio hanno avuto un incremento di traffico spaventoso signori come per ogni cosa se in questa stanza stiamo comodi in dieci ma poi diveniamo mille non è lo stesso agio pure la stanza è la medesima per cui ora c'è maggiore agio per chi volesse provarlo nell'andare su iorestocasa.work piuttosto che accedere direttamente dal sito di Jitsi alla stessa maniera faccio un passo indietro mi fermo un attimo qui se parliamo di comunicazione tema così chiave in questi momenti abbiamo parlato di Telegram parliamo di Jami parliamo di Jitsi Meet parliamo anche e qui mi tocca sul vivo tra l'altro Marcello nostro amico Marcello di recente ha tenuto un webinar che però parlava della istanza cioè del motore di questa risorsa che vi sto mostrando che si chiama BBB Big Blue Button ecco io qua da un punto di vista didattico cioè non mi arrogo alcun merito in fatto di sviluppo tecnico ma qualcuno dice che in questo momento con la barbetta e le battute Andrea mi pare Beppe Grillo questo Gabriele che lo dice Gabriele Ponzo allora signori noi qua siamo laici e apolitici inoltre sono più bello naturalmente esteticamente più gradevole di Beppe Grillo però battuta a parte mi fa piacere dire che il software libero esiste e a volte se lo si comunica bene si spiega il vantaggio che ha forse viene anche utilizzato io vi posso dire che ho documentate numerosissime scuole in Liguria e in altre regioni che per scelta responsabile dietro apposita formazione rispetto all'utilizzare Google Meet sul quale non vado ad effettuare sindacati cioè giudizi di valore ma Google Meet facente capo a Google è una piattaforma per la didattica sincrona si dice cioè per la lezione ora e adesso in audio e video che fa capo a Google che necessita di profilare gli utenti che lo utilizzano anche questa la faccio segnare all'amico Giordano no account no Meet che è la versione moderna di no martini no party oltretutto pensando che i server comunque sono sempre in California perché non dimentichiamoci che c'è un aspetto non indifferente utilizzando piattaforme per la didattica come può essere Google Meet o Teams di Microsoft dove noi regaliamo tutti i nostri dati in parte stiamo facendo anche con YouTube ma non in maniera così approfondita come viene fatto utilizzando delle piattaforme della didattica in cui vi ricordo abbiamo a che fare con degli studenti che partono dall'elementare fino al superiore per cui una parte di loro sono minorenni e abbiamo regalato i nostri dati i dati dei nostri figli per chi li ha ai signori di Google e di Microsoft non è una polemica ma è una consapevolezza come dicevi prima tu allora al netto del fatto come dice Giordano che consapevolezza vuol dire che io famiglia in piena libertà ho firmato una liberatoria così vi faccio capire firmo una liberatoria dunque una manleva nella quale io firmo non è che debba firmare con la mano sugli occhi io firmo che in maniera assolutamente legale senza illeciti da parte di nessuno sto autorizzando un trattamento dati da parte dell'ambiente di apprendimento Google e della piattaforma per poter erogare i servizi didattici questo è il meccanismo con la personalizzazione ad esempio di BBB che è stata fatta dai tecnici della fondazione Franchi rendendo la piattaforma hub digitale con alcune migliorie squisitamente didattiche siamo dico siamo nel senso che la supervisione didattica insieme ad altri colleghi l'ho data io per cui l'ho vissuta con i miei occhi in grado di poter offrire una piattaforma a tantissimi istituti scolastici d'Italia che consente realmente agli alunni di accedere ad una stanza con credenziali di istituto cioè c'è un protocollo ben chiaro l'alunno entra la gestione dell'insegnante è totale l'insegnante non in un'unica finestra tutto quel che serve preferibilmente l'insegnante opera da personal computer gli alunni possono ricevere la lezione da personal computer o da dispositivo mobile nel momento in cui io clicco su terminal meeting e comunque a livello di esempio l'insegnante entra per primo ed esce per ultimo così diamo anche una pillola di DAD di didattica a distanza bene già con il mio buonsenso unito alla buona piattaforma ecco che vado a creare quel contesto di consapevolezza digitale che francamente ancora manca torno a bomba e poi vado a chiudere il mio intervento e faccio già un cenno quindi di preparazione all'amico Gabriele Ponzo di Libre Italia ecco il punto è questo lo dico in chiusura così chiudo esattamente come ho iniziato io sono libero di scrivere una lettera e sono libero di scrivere una lettera con il programma lecitamente posseduto Microsoft Word salvando in un formato docx proprietario bene aprendo quel documento con Libre Office Writer video scrittura io vedrò quel documento ma non posso poi dare la colpa a Libre Office Writer ad esempio perché un documento nato come docx quindi creato e gestito da un software proprietario poi ai miei occhi si apre male domanda interessante che sto leggendo la giro a Giordano ma ci possiamo riflettere vediamo di farvi avere qualche cosa chiede l'utente Claudio se abbiamo dati per capire come sta andando l'aumento della diffusione del software open domanda interessante possiamo poi confrontarci anche su questo tema leggo Paolo che saluto un altro utente che parla di Bolzano Bolzano è una realtà virtuosa laddove faccio proprio il nome parliamo degli sforzi profusi da amici e professionisti quali Paolo Dongilli e Giordano sa bene di cosa sto parlando e di cosa stiamo parlando quando ci sono persone competenti che mettono in atto progetti seri ben comunicati allora accadono come è accaduto nel tempo migrazioni quali Libre Difesa che tende a portare Libre Office all'interno del Ministero della Difesa con un risparmio di denari enorme scusa tutto ricordare anche Diego Maniacco perché Diego Maniacco che adesso è in pensione il ragazzo è in pensione come no salutiamo Diego Maniacco nel frattempo risaluto perché è bello leggiamo anche i vari commenti amico Albano Battistella che evidentemente teme che nel nominarlo io non sia sufficientemente accalorato ecco però a volte condividiamo post e riflessioni con Albano con Diego con Giordano con Italo con Enio il senso della comunità è poter scambiare una opinione ottenendo una risposta o un confronto e qua faccio una chiosa il confronto è questo non è ghettizzarci o fare sì che vi siano utenti di serie A utenti di serie B software e prodotti di serie A di serie B il digitale è per tutti che vi siano utenti Grazie.